Un grande giardino fiorito, con colori e profumi inebrianti che ricordano quanto sia bella la primavera. Così si trasformano i padiglioni della Fiera di Gorizia, che dal 1 al 3 aprile ospita Pollice Verde. La mostra mercato, giunta alla sua dodicesima edizione, è dedicata a tutto ciò che riguarda il mondo del verde, dal gardening all'orto, dall'ecologia al verde urbano. Esperti appassionati del settore, provenienti dal Friuli Venezia Giulia ma anche oltre confine si danno appuntamento per vedere, conoscere e fare acquisti. Sono un centinaio gli stand degli espositori sia italiani che esteri, in particolare da Slovenia e Polonia. L'ingresso è libero, così come la partecipazione agli eventi. Il calendario di iniziativa è piuttosto articolato. Tra tutte segnaliamo quella di domenica 3 aprile alle ore 17.30 con Carlo Pagani, tra i più famosi esperti botanici d'Italia, che presenterà il suo nuovo libro. Protagonista del volume è la sua splendida collezione di rose antiche. In aggiunta preziosi consigli sulle tecniche di coltivazione, gli utilizzi in cucina, in fitoterapia e nella cosmesi. Oltre a questo troviamo suggerimenti su come impiegare le rose antiche per mantenere vivo il galateo e le credenze astrologiche. Da sempre Pollice Verde è il momento di attrazione e di divertimento anche per i più piccoli, con verde pollicino ricco di proposte interattive e di educazione ambientale. Le iniziative sono fatte a misura di bambino. Il gioco è il modo migliore per conoscere le piante, gli animali da cortile, l'ambiente e la natura. Uno degli eventi in programma è realizzato in collaborazione con l'acquario Paolo Solimbergo di Aris di Rivignano. In un viaggio simbolico, dalle cime montuose al mare, attraverso i corsi d'acqua, i visitatori adulti e piccini si imbattono nei diversi ecosistemi presenti in regione. Anche per questa edizione Pollice Verde rinnova l'ospitalità alla Mostra Internazionale del Coniglio, l'unica mostra internazionale in Italia, che presenterà circa 200 animali provenienti da Slovenia, Austria e Italia. I visitatori potranno ammirare oltre 30 razze. I conigli in gara saranno giudicati da esperti nazionali e i migliori esemplari saranno premiati nel pomeriggio di domenica 3 aprile. Numerose sono anche le iniziative culturali rivolte alle scuole a cura della regione Friuli Venezia Giulia, che dispone, nell'ambito del suo patrimonio, anche di una struttura vivaistica forestale. Degli esperti dei vivai regionali faranno sperimentare ai ragazzi e agli studenti delle scuole il laboratorio vivaistico. I ragazzi potranno seminare alcune specie forestali e trapiantarle in vaso. L'orario di visita di Pollice Verde è molto ampio, ogni giorno dalle 10 alle 20. Per tutte le informazioni potete andare sul sito